che maestoso tuono vagabondo mi dissi stando in piedi sulla pietra del mio focolare tra le colline a croce rauniche mentre gli scompigliati fulmini mi turbinavano sulla testa e cadevano con violenti schianti giù per le vallate ogni fulmine seguito da irradiazioni a zigzag da rapide cortine di violenta pioggia che urtava contro il mio basso tetto di assicelle sonora come una carica di lanceri suppongo che le montagne che mi circondano spezzino e abburattino il tuono in modo che da queste parti è molto più imponente che non sulle pianure ma che c'è qualcuno bussa alla porta chi sarà mai che sceglie un temporale per andare a far visita e perché non usa come tutti gli altri il martello invece di picchiare il pugno contro un pannello producendo questo antipatico rimbombo da becchino ma entri entri pure eccolo qui buongiorno signore uno sconosciuto vi prego accomodatevi ma che sarà quello strano bastone da passeggio che reca in mano uno splendido temporale signore splendido tremendo ma voi siete tutto bagnato venite venite ad asciugarvi qui davanti al fuoco per nulla al mondo lo sconosciuto restava immobile nel punto centrale della casetta dove si era subito fermato la stranezza del suo aspetto costringeva ad un più attento esame magro un'aria melanconica capelli scuri umidi disordinatamente incollati sulla fronte le infossate orbite degli occhi erano orlate da un cerchio d'indaco e lampeggiavano di innocui fulmini la vampa ma non la saetta l'uomo era addirittura fradicio ai suoi piedi sul pavimento di nude assi di querza si era formata una pozzanghera lo strano bastone da passeggio gli si ergeva verticale al fianco si trattava di una lucida verga di rame lunga quattro piedi e attaccata nel senso della lunghezza a un semplice bastone di legno mediante la sua inserzione in due palle di vetro verdastro circondate da nastri di rame la verga di metallo terminava a modi tripode in tre guzze punte che brillavano dorate egli reggeva questo arnese per il manico di legno signore disse io con un rispettoso inchino ho forse l'onore di ricevere una visita di quell'illustre dio che è giove tonante tale infatti era la sua posa in un'antica statua greca coi fulmini stretti in mano se voi siete lui o un suo vicario devo sinceramente ringraziarvi di questo splendido temporale che avete organizzato tra le nostre montagne sentite quello è stato un tuono veramente solenne vi assicuro che per uno che incline al maestoso è un autentico piacere ospitare nella sua capanna il tonante in persona il tuono sembra diventare anche più splendido ma vi prego accomodatevi questa vecchia poltrona col fondo di vimini e ben povero sostituto lo ammetto per il vostro sempre fiorente trono in olimpo ma degnatevi di sedere mentre così affabilmente gli parlavo l'estraneo mi contemplava con stupore una strana sorta di orrore ma non mosse piede vi prego signore accomodatevi dovete asciugarvi prima di uscire e con un gesto d'invito collocai una poltrona davanti al camino dove un focherello era stato acceso quel pomeriggio più per combattere l'umidità che il freddo dato che si era ai primi di settembre ma l'estraneo non accolse le mie profferte e rimanendo sempre immobile nel bel mezzo della stanza mi lanciò un tenebroso sguardo pieno di sottintesi e poi disse signore scusatemi ma invece di accettare il vostro invito ed accomodarmi presso il camino io solennamente vi esorto ad accettare voi il mio e cioè a venire qui nel mezzo della stanza nel nome del cielo esclamò con un sobbalzo ecco un altro di quei terribili schianti vi prego signore allontanatevi dal camino signor giove tonante risposio tranquillamente ondolandomi sulla poltrona con la schiena rivolta al camino io mi trovo benissimo qui ma siete dunque così orribilmente ignorante esclamò da ignorare che il punto più pericoloso di una casa durante un temporale terribile come questo è appunto il camino no non lo sapevo involontariamente allontanandomi di un passo e venendo così a trovarmi sull'impiantito l'estraneo ostentò una così antipatica aria di soddisfatto mentore che con un movimento ugualmente involontario tornai sulla pietra del camino e assunsi la posizione più fiera che seppi ma non dissi nulla nel nome del cielo e gli esclamò con una strana mescolanza di timore di intimidazione nel nome del cielo scendete da quella pietra ma non lo sapete che l'aria è riscaldata e la origine sono ottimi conduttori per non parlare di quegli immensi alari di ferro allontanatevi da quel punto ve ne prego ve lo ordino signor giove tonante non ho l'abitudine di ricevere ordini in casa mia non chiamatemi con quel nome pagano come osate mostrarvi così empio in una congiuntura tanto pericolosa signore volete essere così gentile da dirmi perché siete venuto qui se cercate riparo durante il temporale siete bene accettato fino a quando rispetterete le buone creanze se siete venuto per affari spicciatevi a dirmi di che si tratta chi siete sono un venditore di parafulmini dichiarò l'estraneo con un tono più gentile e il mio compito è del cielo che schianto siete mai stato colpito la vostra casa voglio dire no ma è meglio mettersi al sicuro con chiara intenzione picchiando la verga metallica sul pavimento perché la natura durante un temporale non concede immunità ma dite una sola parola e questa vostra villetta io con pochi movimenti della mia bacchetta magica io mi sento di rendervela una gibilterra sentite ma questo non è più un fulmine è un'immalaia non interrompetevi stavate dicendomi che il vostro mestiere è di viaggiare per questa regione e vendere parafulmini e questo è il mio campione dando un colpetto al bastone e ho le migliori referenze rugandosi in tasca a krigen il mese scorso ne ho installati ben 23 su non più di cinque edifici un momento non è stato a krigen che la settimana scorsa verso la mezzanotte di sabato sono stati colpiti il campanile un grosso olmo e la cupola della sala del consiglio anche là avevate installato i vostri parafulmini sull'albero e sulla cupola no sul campanile sì e allora a che serve quella vostra verga a che serve ma si tratta di vita o di morte solo che il mio operaio è stato sbadato nel sistemare il parafulmine in vetta il campanile non si è accorto che una parte del metallo restava in contatto con il tetto di lamiera donde l'incidente la colpa non è affatto mia ma sua avete sentito non badateci il tuono è stato abbastanza sonoro perché lo si potesse udire senza che voi vi scomodaste ma avete sentito ciò che è accaduto a montreal l'anno scorso una servetta colpita accanto al letto con un rosario in mano i grani erano di metallo il vostro giro d'affari vi porta anche nel canada no e mi hanno riferito che da quelle parti usano solo parafulmini di ferro dovrebbero usare i miei che sono di rame il ferro si fonde troppo facilmente poi i parafulmini li costruiscono così sottili che gli manca la massa necessaria per smaltire tutta la corrente elettrica il metallo si fonde la casa viene distrutta i miei parafulmini di rame invece non corrono mai un rischio simile quei canadesi sono degli sciocchi alcuni giungono al punto di mettere una palla alla sommità del parafulmine ciò che può produrre una tremenda esplosione invece di convogliare impercettibilmente l'energia elettrica alla terra come fa questo mio il mio è l'unico parafulmine perfetto esaminatelo e costa solo un dollaro al piede il fatto che critichiate tanto i vostri colleghi può far nascere dei dubbi sul vostro conto sentite il tuono non brontola più segno che si avvicina a noi e alla terra avete udito che schianto secco e preciso non se ne odono più le ripercussioni tanto è vicino un altro lampo attento ma che state facendo chiesi io vedendo che di colpo aveva abbandonato il bastone e attento proteso in avanti verso la finestra stringeva tra l'indice e il medio della destra il polso della sinistra prima che fossi riuscito a formulare completamente la mia domanda egli aveva già esalato un'altra esclamazione ecco il colpo tre battiti appena meno di un terzo di miglio deve essere caduto in quel bosco nel venir qui sono passato davanti a tre querce che erano state colpite schiantate e ancora fosforescenti le querce attirano il fulmine più degli altri alberi perché nella loro linfa contengono del ferro questo vostro pavimento sembra di querza tutto di querza dato che siete venuto da me in questa congiuntura penso che di proposito voi scegliate i temporali per visitare i vostri eventuali clienti quando il tono rimbomba per il cielo ritenete che quello sia il momento particolarmente indicato a produrre un'impressione favorevole sentite è stato tremendo questo da parte di uno che vorrebbe liberare tutti gli altri dalla paura mi sembrate straordinariamente pauroso voi la gente comune per viaggiare sceglie il tempo bello voi invece scegliete i temporali e tuttavia che io viaggi durante i temporali lo ammetto ma non senza particolari precauzioni quali può conoscere solo un venditore di parafulmini sentito ma decidetevi esaminate il mio campione non costa che un dollaro al piede un ottimo parafulmine a quanto mi sembra ma quali sarebbero queste vostre speciali precauzioni permettete però che chiuda quella imposta prima la pioggia adesso cade di sbieco e picchia contro i vetri è meglio che spranghi la finestra ma siete pazzo non sapete che quella sbarra di ferro è un ottimo conduttore lasciate stare e allora mi limiterò a chiudere le imposte e dirò al domestico di portarmi un bastone di legno scusate volete suonare il campanello voi vaneggiate il fil di ferro del campanello potrebbe essere la vostra rovina non toccate mai i fili di campanello durante un temporale e non suonate mai nessuna campana di nessun genere neppure quelle dei campanili vi prego sapreste dirmi dove e in che modo uno può sentirsi al sicuro in un tempo come questo vi è parte alcuna della mia casa che potrei toccare senza correre rischi mortali senza dubbio ma non dove vi trovate voi allontanatevi dal muro la corrente qualche volta si scarica giù per il muro e siccome l'uomo è miglior conduttore del muro potrebbe lasciare il muro per entrare in voi lei del cielo questo è caduto vicinissimo deve essere stato un fulmine globulare più che probabile ma ditemi un po qual è secondo voi la parte più sicura di questa casa questa stanza e in questa stanza il punto dove mi trovo io venite qui spiegatemene prima il perché ecco dopo il lampo subito il risucchio dell'aria le finestre ne vibrano ancora la casa la casa venite qui spiegatemene il motivo per piacere venite qui vicino a me tante grazie ma credo che nel mio posto preferito il camino e ora caro il mio signor parafulmine tra un tuono e l'altro siete così gentile da dirmi per quali motivi voi ritenete che questa sia la stanza più sicura di tutta la casa e il punto dove vi trovate voi il più sicuro di questa stanza per un po di tempo non si udirono più altri tuoni il signor parafulmine parve alquanto sollevato e rispose la vostra è una casa un piano con un solaio e una cantina e questa stanza si trova nel mezzo perciò è relativamente più sicura delle altre perché il fulmine qualche volta trapassa dalle nubi alla terra e a volte dalla terra alle nubi mi seguite inoltre ho scelto il punto centrale della stanza perché se il fulmine dovesse colpire questa casa scenderebbe certo per il camino per le pareti ed è ovvio che quanto più ne siete lontano tanto più vi trovate al sicuro e adesso venite qui un momento una cosa che voi avete detto invece di atterrirmi mi ha ispirato una strana fiducia e quale mai che talvolta il fulmine passa dalla terra alle nubi certo il colpo di rimando come viene chiamato quando la terra essendo sovraccarica di elettricità scarica il sovrappiù verso l'alto il colpo di rimando cioè dalla terra al cielo ma di bene in meglio dunque venite qui accanto al camino ad asciugarvi meglio qui e meglio bagnato bagnato è la cosa più sicura che si può fare ma sentite ricomincia la precauzione migliore durante un temporale è di inzupparvi completamente gli abiti bagnati sono migliori conduttori del corpo e così un fulmine che vi colpisse potrebbe scaricarsi attraverso gli abiti bagnati senza toccarvi il corpo ma il temporale è in ripresa avete per caso un tappeto in casa i tappeti sono cattivi conduttori datemene uno che ci possa salire sopra e saliteci anche voi il cielo si rabbuia non si vede quasi più ed è mezzogiorno avete sentito il tappeto il tappeto viene dia di uno mentre le montagne incappucciate sembravano rinserrarsi tra loro e precipitare sulla casetta e ora dato che il tacere non ci sarà di alcun trovamento dissi io riprendendo il mio posto esponetemi vi prego le precauzioni che prendete quando viaggiate sotto un temporale aspettate almeno che questo sia passato no no elencatemi le vostre precauzioni secondo quel che mi avete detto voi stesso ora vi trovate nel posto più sicuro della casa quindi parlate allora in poche parole evito i pini le case elevate le fattorie isolate i pascoli alti l'acqua corrente le mandrie di bovini o di pecore di assembramenti di persone se vado a piedi come oggi non cammino in fretta se vado in carrozza evito di toccarne lo schienale e i fianchi se vengo sorpreso mentre sono a cavallo ne scendo e conduco il cavallo per mano ma soprattutto evito gli uomini alti sogno son desto un uomo evita gli uomini e per di più in un momento di pericolo gli uomini alti durante un temporale li evito ma siete veramente così ignorante da non sapere che un uomo di sei piedi è alto quanto basta per attirare su di sé la scarica di una nube pregna di elettricità non lo sapete anche voi quanto di frequente gli abitanti del kentaki vengono fulminati mentre sono intenti ad arare pensate che talvolta un uomo di sei piedi che si trovi presso un'acqua corrente viene preferito come conduttore all'acqua stessa sentite certo che quel pinnacolo laggiù è stato colpito sì l'uomo è un ottimo conduttore un fulmine penetra completamente in un uomo mentre invece un albero si limita a pelarlo ma signore voi mi avete trattenuto qui a lungo a rispondere alle vostre domande e non abbiamo ancora concluso nessun affare vi decidete ad ordinarmi uno dei miei parafulmini guardate questo campione guardatelo è fabbricato col miglior rame in commercio e il rame è il migliore dei conduttori la vostra casa è bassa ma trovandosi sulle montagne l'umiltà della vostra costruzione non è protezione sufficiente voi montanari siete i più esposti in una regione montana un commerciante di parafulmini dovrebbe concludere affari d'oro esaminate questo campione signore per una casa piccola come la vostra un unico parafulmine può bastare esaminate questi certificati un unico parafulmine signore che non vi costerà più di 20 dollari sentito tutte le montagne taconiche usa scaraventate insieme come dei sassolini a giudicar dal rumore si direbbe che abbia colpito qualcosa un parafulmine che spunti di soli 5 piedi sopra la casa estenderà la sua protezione per un raggio di 20 piedi solo 20 dollari signore un dollaro il piede sentite terribile dunque volete ordinarne uno volete comprarne uno mi favorito il vostro nome e indirizzo pensate che potreste ridurvi a una carcassa bruciacchiata come un cavallo alla cavezza arso nella stalla e meno di un secondo sentite un po voi preteso inviato straordinario e ministro plenipotenziario presso e da parte di giove tonante gli risposì io ridendo voi semplice uomo che venite qui e vi installate voi e il vostro bastone tra cielo e terra credete forse che per essere in grado di far sprizzare qualche verde scintilla da una bottiglia di leida credete forse di poterci veramente proteggere dai fulmini dei superi il vostro parafulmine arrugginisce o si spezza e allora chi vi ha dato il potere o miserabile tezzel che non siete altro di andare in giro a smerciare le vostre dispense dai decreti divini i capelli della nostra testa sono numerati e così pure i giorni della nostra vita in perverse un temporale o splenda il sole io vivo fiducioso nelle mani del mio dio falso mercante vattene guarda il papiro del temporale è stato arrotolato la casa è intatta e nell'arcobaleno dai cieli azzurri io leggo che gli dei non vorranno mai di proposito muovere i nostri armata contro la terra di noi uomini miserabile pozzo di empietà schiumò lo sconosciuto rabbuiandosi in volto quanto più risplendeva l'arcobaleno renderò note a tutti le vostre sacrile idee vattene e spicciati se se la fai a filar via rapido tu che come un verme appari e brilli quando fa brutto il cipiglio divenne sempre più cupo i cerchi di indaco si allargarono attorno agli occhi come un'alone di tempesta attorno a una luna notturna balzò su di me puntandomi contro il cuore il suo tricuspide arnese ma io la ferrai lo spezzai lo buttai a terra lo calpestai e cacciato di casa mia quel cuporè dei fulmini gli buttai dietro il suo contorto scettro di rame ma nonostante il mio trattamento e quanto ho detto per dissuadere i miei vicini l'uomo del parafulmine continua a vivere da queste parti continua a viaggiare durante i temporali e fa affari d'oro sfruttando le paure dell'uomo grazie a tutti